La trattoria Dai Paisani, situata nel cuore di Tokyo, celebra quest'anno il suo decimo anniversario. Fondata nel 2014 da Giuseppe Sabatino e Davide Fabiano, questo ristorante è diventato un punto di riferimento per gli amanti della cucina abruzzese nella capitale giapponese. In questi dieci anni la trattoria Dai Paisani ha saputo conquistare il cuore dei suoi clienti grazie a piatti autentici e ingredienti di alta qualità, molti dei quali importati direttamente dall'Abruzzo. Il ristorante offre una vasta gamma di specialità regionali come la pizza e foglie, i cavatelli e la chitarra, preparati con amore e passione. Quest'anno la celebrazione è resa ancora più significativa dal ricordo del co-fondatore Giuseppe Sabatino, recentemente scomparso. Sabatino era un vero ambasciatore della cucina abruzzese, con una carriera che lo ha portato a lavorare in diversi paesi del mondo prima di stabilirsi a Tokyo. La sua passione per l'enogastronomia e il suo impegno nel mantenere viva la tradizione culinaria abruzzese sono stati fondamentali per il successo della trattoria Dai Paisani. Questa trattoria non è solo un ristorante, ma un luogo di incontro dove la cultura italiana e giapponese si fondono armoniosamente. L'atmosfera accogliente e familiare, unita alla qualità dei piatti, ha reso questo ristorante un punto di riferimento non solo per gli italiani residenti a Tokyo, ma anche per i giapponesi che desiderano scoprire i sapori autentici dell'Abruzzo. Nonostante la perdita di Giuseppe Sabatino, la trattoria Dai Paisani continua a guardare al futuro con ottimismo. Davide Fabiano, cofondatore e chef, continua a portare avanti la visione di Sabatino, mantenendo alta la qualità dei piatti e l'ospitalità che ha reso famoso il ristorante. In conclusione, la trattoria Dai Paisani celebra dieci anni di successi, ricordando con affetto il suo fondatore e guardando con speranza al futuro. Un luogo dove la tradizione abruzzese continua a vivere e deliziare i palati di Tokyo. Grazie a tutti!